eccoci ciao a tutti come state allora in questo video non c'entra niente con i nostri tutorial che gireremo tra poco e per informarvi lo avrete già visto perché abbiamo messo un post su tutti i nostri social di un'iniziativa alla quale abbiamo aderito la troviamo un'iniziativa veramente valida nata da un ragazzo di Piacenza e poi nello staff si sono unite anche altre persone e questa iniziativa si chiama torniamo presto come funziona praticamente è stato creato un portale e trova l'ho trovata all'indirizzo www.torniamopresto.it e dove praticamente chi le attività commerciali che vogliono possono aderire farsi inserire in questa lista e come funziona praticamente voi clienti potete se volete naturalmente acquistare delle gift card cioè dei buoni dei buoni da spendere poi quando l'emergenza sarà finita e quindi quando anche noi potremo riaprire al pubblico e è tutto molto semplice noi siamo state inserite questa mattina e devo dire che che abbiamo avuto un immediato riscontro la cosa veramente ci ha fatto tanto tanto piacere perché poi anche in questo modo ti rendi conto che comunque i clienti sono affezionati quindi vuol dire qualcosa di buono dai l'abbiamo l'abbiamo fatta nasce per sostenere appunto le piccole imprese locali come noi che sono state a causa dell'emergenza coronavirus costrette a chiudere a chiudere al pubblico e quindi diciamo le imprese si trovano una piccola liquidità per le spese fisse che purtroppo continuano ad esserci e voi avete avete questo buono che potrete spendere poi quando volete noi non abbiamo deciso di non mettere scadenza per cui poi quando vorrete potrete spenderlo e approfitto per ringraziare chi ci ha segnalato l'iniziativa che è un nostro cliente amico e marco grazie anche cristina ci aveva segnalato una cosa simile perché ne sono nate numerose di queste realtà di queste iniziative è semplicissimo basta collegarsi a parte che trovate il link su tutti i nostri social e anzi mandiamo facciamo una cosa chiedo alla regia perché ormai potenti mezzi di mettere un attimo il cartello dell'iniziativa ecco avete visto il cartello che ritrovate anche nei nostri social e da parte vostra è veramente semplice basta collegarsi al sito www.torniamopresto.it praticamente io non so se riuscite a vedere questa è la pagina che vi si aprirà andando scorrendo avete scusate un attimo vedi le attività che partecipano cliccate qui ora sicuramente il mio telefono è lentissimo a navigare però comunque da qui vi si aprirà una pagina dove potete inserire il nome del negozio e vi uscirà la scheda del negozio in fondo non si vede però vi assicuro che è così in fondo troverete un form cioè i vostri dati da mettere e un messaggio ci arriverà direttamente via mail e vi ricontatteremo noi stanno proprio in questi minuti attivandoci anche il tasto paypal per fare l'acquisto direttamente dal sito comunque è tutto spiegato è tutto molto semplice vi ricordo solamente al volo come potete pagare appunto via paypal e tra poco troverete il link diretto su torniamopresso.it poste pay bonifico bancario o con carta di credito da remoto vi mandiamo noi la richiesta come funziona appena riceviamo il pagamento noi emettiamo lo scontrino nelle ore che teniamo qui con il vostro nome l'importo e il numero di buono e nelle ore successive voi riceverete un file in pdf che è il vero e proprio coupon e con il vostro nome il numero eccetera niente di più semplice allora vi salutiamo ringraziamo tantissimo ancora prima di tutto l'ideatore di torniamopresso.it e tutti voi che state partecipando in maniera così così carina veramente siamo siamo commosse allora ci vediamo presto perché noi anche torniamo presto a vediare l'ideatore di tornare ora sono stati rautami, non lo faccio per fare anche domani, non asciutto per fare anche domani.it Grazie a tutti.